video wow super video stasera niente lacrime stasera mangio i tortellini con sugo di cinghiale quelle cose che vabbè ecco purtroppo mi sono dimenticato il parmigiano quanto mi manca il parmigiano adesso però i tortelloni ogni 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 sono buoni 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 troppo buoni wow quando fai quando è fame no ho pensato prima o poi dovrò mangiare no non mangiavo le quattro e poi si andrebbe magari una mozzarella no un po di sai quei succhi non so come spiegare tipo fragola che metti sulle torte no guarda che non è uno scherzo se metti in parte un po di questo succo le fragole no io sono un ingegnere cuoco mi chiamerei una roba del genere ho invenzioni sulla cucina che non mi batte nessuno e io sono troppo bello io quest'anno vado a sposarmi perché devo farlo ho 39 anni ma e poi intanto faccio convivenza ma poi mi sposo e wow wow scop beaches ecco succo ecco 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 ecco